buongiorno appassionati del crimine bentornati sul canale se non ci siamo mai visti io sono andrea e oggi voglio parlarvi del caso di zoe campos un caso avvenuto purtroppo nel 2013 ma fortunatamente dall'ora risolto anche se in realtà solo di recente perché solo quest'anno effettivamente si è arrivati a un punto partiamo quindi come sempre dall'inizio parlando di una piccola bambina nata in texas il 4 di settembre del 1995 il cui nome completo era zoe gabrielle campos i suoi genitori erano aleandro e belinda e aveva una sorella maggiore di nome savanna il padre di zoe era un militare quindi diciamo che la famiglia era sempre stata abituata a viaggiare parecchio a cambiare spesso casa erano andati a san diego onululu per poi fare il ritorno all'aboc esattamente dove zoe era nata e in quel posto i suoi genitori avevano poi finito per divorziare zoe amava due cose specialmente la sua famiglia alla quale era legatissima specialmente a sua mamma e a sua sorella savanna e poi lei adorava gli animali qualsiasi tipo di animale infatti lei spesso e volentieri andava al supermercato per comprare qualche scatola di croccantini per gatti e cani randagi e proprio in questo gesto veniva racchiusa la sua essenza lei era gentile altruista e protettiva nei confronti di chi ne aveva bisogno ed era anche molto legata in realtà a sua nonna sua nonna candy che non vedeva spesso però allo stesso tempo alla quale voleva davvero molto bene la sua più grande passione invece era la meccanica lei passava tutto il suo tempo libero a riparare auto e in effetti proprio nei giorni prima di scomparire aveva messo le mani su un'ennesima automobile che però questa volta voleva riparare del tutto da sola e infatti il suo sogno nel cassetto era proprio quello di diventare un meccanico zoe come vi accennavo prima adorava sua sorella savanna e anche i figli di sua sorella i suoi due nipotini che lei spesso e volentieri portava al parco e con i quali voleva sempre passare tantissimo tempo zoe non era affatto quel tipo di ragazza che voleva uscire tutte le sere con i suoi amici anzi lei preferiva di gran lunga starsene a casa e guardare un film magari con la sua famiglia sul divano e infatti aveva una piccola cerchia di amici pochi ma buoni era sempre stata una ragazza molto seria matura e diligente ma purtroppo il 17 di novembre del 2013 tutto è cambiato zoe quel giorno doveva andare da una sua amica di nome april questo perché questa ragazza aveva appena avuto un bambino era una sua amica lei adorava i bambini quindi voleva per forza conoscerlo e soprattutto congratularsi con la mamma e di fatto lei era andata a trovare questa sua amica con dalla quale c'erano già tante altre persone che dovevano fare la stessa cosa insomma e poi però verso le nove di sera lei era già tornata a casa questo perché doveva cenare con sua sorella e poi guardare un film insieme a lei le due quindi con i figli di savanna erano andati a cena e poi erano tornate a casa avevano affittato un film e l'idea era quella che zoe dovesse rimanere a dormire quella sera proprio da savanna sua sorella perché il giorno dopo avrebbe dovuto guardare i suoi figli mentre savanna era lavoro bene quindi quella sera erano tutti insieme ma verso le 11 e 30 zoe stava morendo di sonno perciò la sorella savanna era andata a dormire ma il giorno seguente lei si aspettava di ritrovarla ancora sul divano così come erano i patti ma zoe purtroppo non c'era più in realtà zoe doveva essere uscita di proposito questo perché aveva mandato un messaggio a sua mamma alle 2 e 30 di notte chiedendole se voleva un passaggio per tornare a casa perché belinda sua mamma usciva da lavoro a quell'ora e lei aveva risposto volentieri di sì perché non sapeva bene ancora come tornare a casa quella sera ma alle 2 e 39 invece si erano interrotte bruscamente le comunicazioni quindi non arrivavano più messaggi da parte di zoe a belinda belinda quindi aveva aspettato una mezz'ora davanti al suo posto di lavoro aspettando sua figlia l'aveva provata a chiamare una volta e quella volta il telefono aveva squillato e poi era entrata la segreteria ma la seconda volta che aveva provato a ricontattarla il suo telefono era andato subito sulla segreteria telefonica pensando quindi belinda che sua figlia si fosse addormentata per sbaglio aveva deciso poi di andare a dormire da un suo amico e non si era preoccupata poi più di tanto per quella notte non succede più nient'altro però la mattina seguente quindi il 18 di novembre quando savanna si sveglia e si accorge che zoe non c'è prova a chiamarla a voce chiama il suo nome ma lei non risponde prova a chiamarla al telefono e non risponde neanche al telefono così chiama sua mamma e si accorgono così che la situazione poteva essere più grave del previsto questo perché belinda le spiega che la notte sua figlia zoe l'aveva contattata ma poi non si era più fatta sentire quindi tutte e due preoccupate avevano iniziato a chiamare tutti gli ospedali della zona sperando di non trovarla comunque in uno di questi e comunque per capire se lei fosse in pericolo di vita non trovandola però da nessuna parte belinda e savanna decidono alle 17 di quella stessa giornata di contattare la polizia che ovviamente non prende in considerazione il caso fino a 26 ore dopo la denuncia delle due donne quindi fino alle 19 del 19 di novembre la polizia aveva poi iniziato a cercare con poco successo in realtà l'auto di zoe una lincoln town grigia ma in realtà non l'aveva trovata da nessuna parte ed era stato solo il 20 di novembre che per puro caso la zia di zoe una signora di una signora di nome monica l'aveva trovata in strada mentre anche lei era in strada con la sua auto ed erano sulla 62esima strada monica chiaramente è al corrente della situazione sa che zoe è scomparsa perciò decide di seguire quest'auto riesce a capire che all'interno dell'auto c'è un uomo dalla carnagione scura e con una felpa addosso ma non riesce a capire più molto altro chiama nel frattempo suo figlio per farsi aiutare a inseguire quest'auto ma purtroppo nel frattempo il guidatore si accorge della donna che lo sta seguendo e la semina mamma e figlio continuano a girare per la zona sperando di trovare quell'auto e alla fine ce la fanno la trovano a driftwood un complesso di appartamenti proprio vicino dove abitava zoe e quindi a questo punto entrambi chiamano la polizia per denunciare ciò che era successo gli agenti ci hanno messo un'ora ad arrivare un'ora e poi hanno iniziato a controllare all'interno dell'auto lì ci hanno trovato una felpa quella che indossava quell'uomo la giacchetta di zoe un caricabatterie e del nastro adesivo quindi tutte prove apparentemente importanti e poi hanno iniziato a setacciare l'auto in cerca di impronte digitali era però anche importantissimo capire dove fosse stata zoe tra le 11 e 30 momento in cui l'aveva vista sua sorella per l'ultima volta prima di andare a dormire e le 2 e 39 momento in cui zoe aveva interrotto le conversazioni con sua mamma per telefono quindi era stato possibile capire dove fosse andata zoe grazie agli ultimi messaggi che lei aveva mandato rintracciando la posizione del gps del suo telefono lei si trovava esattamente vicino al campo da calcio della sua zona il problema era che quel campo da calcio fosse una zona abbastanza malfamata sicuramente lì ci andavano molte persone per comprare e vendere sostanze cosa che quasi sicuramente zoe non avrebbe mai fatto quindi la domanda era perché si trovasse in quel posto la polizia aveva poi scoperto anche che l'ultima persona che zoe aveva contattato prima di scomparire fosse un uomo di nome ben l'ex fidanzato di sua mamma che sembrava una cosa strana ma in realtà lui era stato sottoposto a test del poligrafo l'avevano interrogato ed era stato escluso immediatamente dai sospettati così come joe l'ex fidanzato proprio di zoe e anche jacob il ragazzo con cui zoe si stava frequentando non era il classico bravo ragazzo aveva tradito zoe più volte ma aveva un alibi di ferro per quella sera quindi lui non c'entrava nulla gli agenti quindi interrogano a questo punto anche tutti coloro che c'erano a quella piccola festicciola che april l'amica proprio di zoe aveva fatto la sera del 17 di novembre vi ricorderete che zoe era andata a questa festa per congratularsi con la sua amica per la nascita del bambino ma non era stata l'unica ad andare a quella festa c'erano anche altre persone tra cui un uomo di nome carlos rodriguez carlos quindi era stato interrogato il 25 di novembre ma in realtà non aveva potuto fornire molte informazioni questo perché i due non si erano mai visti prima di quella festa quindi lui non la conosceva c'erano però delle informazioni che carlos aveva dato che alla polizia non quadravano molto quindi avevano deciso di sottoporlo a un secondo interrogatorio il 9 di dicembre e lì carlos sembrava essere stato un pochino più sincero aveva detto che effettivamente non si erano mai visti prima di quella festa ma che lui subito dopo le avesse chiesto l'amicizia su facebook che due avessero iniziato a mandarsi dei messaggi e che fossero rimasti d'accordo di vedersi proprio quella sera stessa a casa di lui e così era accaduto ma lui sosteneva di non centrare assolutamente nulla con la scomparsa della ragazza carlos dice di aver mentito per il semplice fatto che zoe era andata da lui per fumare dell'erba quindi lui era in possesso di questa sostanza e non voleva essere messo nei guai per questo motivo ma in realtà lui diventa da subito il sospettato principale questo perché prima di tutto aveva mentito una volta quindi poteva benissimo rifarlo di nuovo e secondo perché lui abitava vicinissimo al campo di calcio zona in cui zoe aveva mandato l'ultimo messaggio prima di scomparire nel nulla ad ogni modo prove concrete contro carlos non ce n'erano ancora quindi la polizia non poteva fare altro che approfondire le ricerche e ascoltare altre testimonianze per esempio la testimonianza di una coppia che giurava di aver visto proprio zoe davanti a un motel chiamato villa town la notte della sua scomparsa e questo poteva essere tranquillamente fattibile perché quel motel era a due passi dal campo da calcio questi approfondimenti come sempre richiedono tantissimo tempo quindi siamo arrivati al 2014 momento in cui però la polizia continua ad avere il sospetto che carlos centri qualcosa con questa situazione quindi nel 2014 ottengono un mandato di perquisizione proprio per casa di questo ragazzo ma lui non abita più lì nonostante questo trovano valanghe di prove del fatto che zoe fosse stata proprio in quella casa c'erano tracce della ragazza ovunque e ancora nel 2015 e poi nel 2016 centinaia di volontari insieme alla polizia avevano tentato di ritrovare zoe o quantomeno il suo corpo ma senza successo e il 17 di novembre del 2016 c'era stata anche una veglia per i tre anni dalla scomparsa di zoe momento in cui però ancora non c'era nessuna risposta riguardo carlos negli anni continuava a essere interrogato dando per ogni volta una versione diversa dei fatti finché ad un certo punto era arrivato addirittura a dire di non aver mai visto zoe cosa assolutamente impossibile perché come dicevo c'erano tracce di lei in tutta casa sua e anche sulla felpa proprio del ragazzo il 5 di dicembre del 2017 carlos era di nuovo sotto interrogatorio ma questa volta lui si trovava in carcere doveva affrontare infatti una pena detentiva di quattro anni questo per aver stalkerizzato e molestato la sua ex fidanzata ma finalmente qualche cosa si muove dopo ben quattro anni questo perché un altro detenuto dello stesso carcere in cui si trova carlos vuole dare delle informazioni che potrebbero sembrare utili alla polizia lui infatti sostiene che carlos fosse andato da lui un giorno dicendogli che la polizia stava perquisendo casa sua ma che non avrebbero trovato nulla se non avessero spostato il cemento queste sono state le testuali parole che carlos ha detto al suo compagno tanto era bastato agli agenti per ottenere un secondo mandato di perquisizione per casa di carlos il primo come vi dicevo la prima perquisizione era avvenuta nel 2014 e adesso la seconda nel 2018 questa volta gli agenti si erano fatti aiutare per la perquisizione anche dai cani che avevano fiutato qualche cosa nel cortile perciò gli agenti avevano iniziato a scavare e avevano trovato effettivamente delle ossa che poi però portate per i test si erano rivelate delle ossa di animali la polizia però sperando che carlos dicesse qualcosa di compromettente gli aveva solo riferito di aver trovato queste ossa nel suo giardino senza dirgli che erano ossa effettivamente di animale ma lui una volta ascoltato il fatto che appunto avevano trovato dei resti aveva immediatamente richiesto un avvocato e non aveva voluto dire nient'altro gli agenti quindi gli avevano teso una sorta di tranello se vogliamo chiamarlo così e avevano poi controllato in seguito tutte le sue telefonate ed era chiaro che lui durante queste telefonate fosse convinto anche se non lo diceva in maniera esplicita del fatto che gli agenti avessero effettivamente trovato le ossa proprio di Zoe gli agenti quindi sono sempre più convinti che carlos abbia ucciso Zoe e l'abbia seppellita all'interno del suo cortile quindi si presentano di nuovo in casa di carlos muniti questa volta di scanner o laser per capire esattamente dove avrebbero dovuto scavare ma prima che iniziassero effettivamente i lavori carlos cambia idea e fornisce una confessione dettagliata di tutto ciò che ha fatto la sera della scomparsa di Zoe. Carlos quindi confessa che i due si erano trovati per strada ma che poi Zoe fosse andata a casa sua che li avessero fumato dell'erba come già dicevo prima ma che in realtà lui dopo aver fumato fosse completamente fuori di sé che avesse le allucinazioni che non capisse assolutamente più nulla e proprio per questo motivo aveva colpito Zoe in faccia prima di strangolarla. Ha poi anche confessato il fatto di aver seppellito immediatamente Zoe la sera stessa della sua scomparsa all'interno del suo cortile ma che poi di averla disseppellita e seppellita in una fossa più profonda nei mesi successivi. Carlos poi il 16 di novembre del 2018 alle ore 22 aveva condotto la polizia nel luogo in cui aveva seppellito la ragazza. Lì erano stati trovati dei resti che corrispondevano effettivamente ai resti di Zoe Campos e quindi finalmente Carlos dopo cinque anni era stato finalmente accusato dell'omicidio di Zoe Campos. Carlos poi ha anche scritto una lettera alla famiglia di Zoe scusandosi per ciò che aveva commesso dicendo che se non fosse stato sotto l'effetto di quelle sostanze lui non avrebbe mai fatto un gesto simile perché non è un assassino. Inoltre aveva anche detto che aveva disseppellito il corpo di Zoe e l'aveva seppellito in un altro posto perché il suo cane stava scavando e stava facendo venire fuori i resti proprio della ragazza. Ma comunque sia nonostante la confessione dettagliata che Carlos aveva fornito al detective che si occupava dell'indagine e nonostante la lettera che lui stesso aveva scritto alla famiglia di Zoe lui una volta arrivato al processo si è dichiarato non colpevole ma il 18 di agosto del 2022 dopo un brevissimo processo è stato comunque dichiarato colpevole e condannato all'ergastolo. Ed è così che finalmente la famiglia di Zoe dopo nove anni dalla scomparsa della ragazza e dalla morte effettivamente della ragazza finalmente ha potuto trovare un po' di pace o quantomeno un po' di giustizia. Ragazzi questo è tutto per questo caso spero l'abbiate trovato interessante so che vi state accorgendo che i miei video sono più corti del solito ma sto cercando di accontentare un po' tutti questo perché molti mi dicono che i miei video sono troppo lunghi e un po' noiosi altri invece mi dicono che vanno benissimo lunghi quindi non so più che cosa fare spero che siate d'accordo con me se farò un po' di video corti e un po' di video lunghi così accontentiamo tutti. Detto questo so anche che mi avete scritto nell'ultimo video o nel penultimo adesso non ricordo che l'audio non andava bene perché era troppo basso io onestamente dai miei dispositivi non mi sono accorta di questa cosa sono andata a ricontrollare più volte ma da quello che ho potuto vedere io era tutto a posto quindi non riesco a capire quale sia il problema ho cambiato un po' di impostazione anche sull'audio quindi spero fatemi sapere se questa volta va meglio noi quindi ci vediamo come sempre mercoledì o sabato con il prossimo caso true crime ciao a tutti un po' di impostazione